Una intera mattinata dedicata all'orientamento scolastico post diploma è quella che hanno assicurato agli studenti delle classi quarte degli istituti superiori del Lodigiano il comune di Lodi l'ufficio scolastico provinciale con l'apporto insostituibile del centro di formazione professionale di Lodi. Qui ragazze e ragazze hanno potuto trovare loro coetanei poco più grandi già iscritti ad università ed istituti di pari livello coinvolti appositamente per illustrare le caratteristiche dei corsi post diploma attivati dagli attenei. In un periodo storico nel quale le aziende chiedono professionalità specifiche anche queste occasioni di incontro col variegato mondo universitario si è evoluto in questa direzione. Così stoppa l'illustrazione delle facoltà classiche ma generiche ed ampio spazio alle indicazioni su corsi specifici magari a durata inferiore. Ragazze e ragazzi in qualche caso accompagnati dai loro insegnanti hanno affollato i locali messi a disposizione dal centro di formazione professionale raccogliendo le indicazioni utili per le loro scelte future. L'opportunità è stata accolta soprattutto dagli istituti superiori del capoluogo di provincia ma anche altri istituti sparsi sul territorio lodigiano hanno approfittato dell'occasione. D'altra parte la scelta di cosa fare dopo aver concluso il percorso didattico delle superiori prima di intraprendere l'attività lavorativa è troppo importante per tutti per lasciarla al caso.